Un equipaggio a bordo di un'imbarcazione speciale pronto ad affrontare una sfida all'insegna dello sport e dell'inclusione grazie al progetto Capitano Uncino. Il Varo oggi è Civitavecchia. Antonio Scopettuolo. L'esperienza del mare del lavoro, l'incontro e la condivisione di un sogno, c'è tutto questo nel progetto Capitano Uncino, promosso da diverse onlus, tra cui la bilancella di Civitavecchia. Venere è una piccola barca ma capace di grandi traversate per portare solidarietà e amicizia. Eccoci qua. Un attimino, con calma. Lo scopo è la costruzione di una barca con il principio della ciurma e della tilibussa, come ci insegna Capitano Uncino, e quindi con l'integrazione di ragazzi normodotati e ragazzi con disabilità. Un Varo che coinvolge anche altre città, anima dell'associazione, un esperto maestro d'ascia. Noi in generale gli abbiamo dato proprio quello, gli abbiamo dato. E gli daremo la possibilità di andare a mare però con una cosa costruita da loro, che non è da tutti. Quindi la soddisfazione è proprio quella. Cioè loro non vanno su una barca già fatta, loro vanno su una barca costruita da loro. Cosa ti piace di più del mare? Le barche, la nautica in generale. Non solo piccole regate, ma tutto ciò che le precede con il lavoro in questo cantiere navale dove si restaura, si crea, si ridà vita nuova a vecchi scafi.